ciao a tutti il motivo che andremo a vedere oggi è questo motivo a intreccio con una specie di diamante centrale allora il motivo è formato da 21 maglie più 4 divagno 2 per lato per formare il bordo sul davanti si presenta in questo modo mentre sul dietro è così i ferri di ritorno per un allora diciamo che nei ferri di ritorno per una parte le maglie vengono lavorate come si presentano mentre in un'altra bisogna stare attenti perché cambia ad ogni modo lo facciamo lo vedremo insieme e comunque vi ricordo che sotto il video io vi metto sempre il motivo per iscritto andiamo a vedere come si procede l'ultima cosa è che il motivo si forma in 32 ferri andiamo a vedere primo ferro ho montato appunto come abbiamo detto 21 maglie più le 4 divagno andiamo a vedere come si procede con il primo ferro allora vado a fare il mio vivagno un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 due maglie insieme a diritto due diritti 1 e 2 un gettato un rovescio un gettato due diritti 1 e 2 una diminuzione semplice quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorarla lavoro la seconda lavoro la seconda diritto passo la prima sopra la seconda 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 chiudo il ferro con un diritto e il mio divagno il secondo ferro le maglie vengono lavorate come si presentano quindi andremo a fare un un rovescio 5 diritti 4 rovesci un diritto 4 rovesci 5 diritti e un rovescio ci vediamo al terzo ferro il terzo ferro vado a fare il mio vivagno un diritto 4 rovescio 5 diritti 1 2 3 e 4 2 maglie insieme a diritto 2 diritti 1 e 2 un gettato un diritto un rovescio un rovescio un diritto un gettato due diritti 1 e 2 una diminuzione semplice quattro rovesci 1 2 3 e 4 e un diritto chiudo il ferro con il mio vivagno il quarto ferro come si presentano le maglie ci vediamo al quinto quinto ferro vado a fare il mio vivagno un diritto 3 rovesci 1 2 e 3 2 maglie insieme a diritto un rovescio 2 diritti 1 e 2 un gettato 2 diritti 1 e 2 un rovescio 2 diritti 1 e 2 un gettato 2 diritti 1 e 2 una diminuzione semplice 3 rovesci 1 2 e 3 e un diritto chiudo il ferro con il mio vivagno il sesto ferro come si presentano le maglie ci vediamo al settimo settimo ferro vado a fare il mio vivagno un diritto 2 rovescio 1 e 2 2 maglie insieme a diritto 2 diritti 1 e 2 2 maglie insieme a diritto 2 diritti 1 e 2 2 ma Un gettato, tre diritti, uno, due e tre. Un rovescio, tre diritti, uno, due e tre. Un gettato, due diritti, uno e due. Una diminuzione semplice, due rovesci e un diritto. Chiudo il ferro con il mio vivagno. L'ottavo ferro, come si presentano le maglie? Ci vediamo al nono. Non ho ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un diritto. Due rovesci, uno e due. Tre diritti, uno, due e tre. Due maglie insieme a diritto. Due diritti, uno e due. Un gettato e un rovescio. Un gettato e due diritti, uno e due. Una diminuzione semplice. Tre diritti, uno, due e tre. Due rovesci. E chiudo il ferro con un diritto. E ovviamente il mio vivagno. Adesso, insieme, andiamo a fare il numero dieci. Perché è diverso. E quindi non dobbiamo fare come si presentano le maglie. Allora, andiamo a fare, ovviamente, il mio vivagno. E quindi li vado a fare a rovescio. Dopodiché andiamo a fare un diritto. Due diritti. Quindi, uno e due. Scusate, ho sbagliato. Chiedo scusa. Mi sono confusa. Due secondi. Allora, recuperiamo. Dunque. Sono un rovescio e due diritti. Poi, sei rovesci. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Adesso, questo gettato che noi dall'altra parte facevamo a rovescio diventa diritto. Quindi, andiamo a fare un diritto. Due diritti. E tre diritti. Ok? Adesso finiamo con sei rovesci. Quindi, come si presentano le maglie. Due diritti. E un rovescio. E ovviamente io chiudo il ferro con il mio vivagno. Che vado a fare a rovescio. Ok? Undicesimo ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un diritto. Due rovesci. Quindi, uno e due. Due diritti. Uno e due. Due maglie insieme a diritto. Due diritti. Un gettato. Tre rovesci. Quindi, uno, due e tre. Un gettato e due diritti. Uno e due. Una diminuzione semplice. Due diritti. Due rovesci. E un diritto. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Andiamo a fare insieme il dodicesimo ferro. Allora, vado a fare il mio vivagno. Poi, un rovescio. Due diritti. Uno e due. Cinque rovesci. Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque diritti. Quindi, questo rovescio diventa diritto. Quindi, uno, due, tre, quattro. E anche questo diventa diritto. E cinque. Quindi, cinque diritti. Cinque rovesci. Uno, due, tre, quattro e cinque. Due diritti. E un rovescio. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Quindi, uno e due. Adesso, andiamo a fare il tredicesimo ferro. Tredicesimo ferro. Allora, facciamo il vivagno. Un diritto. Due rovesci. Uno e due. Un diritto. Due maglie insieme a diritto. Due diritti. Uno e due. Un gettato e cinque rovesci. Uno, due, tre, quattro e cinque. Un gettato e due diritti. Uno e due. Una diminuzione semplice. Un diritto. Due rovesci. Due rovesci. Quindi, uno e due. Quattro rovesci. Uno, due, tre e quattro. Questo gettato diventa diritto. Quindi, andremo a fare uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette diritti. Quattro rovesci. Quattro rovesci. Uno, due, tre e quattro. Due diritti. Due diritti. E un rovescio. Qui, ovviamente, il mio vivagno. Andiamo adesso a fare il quindicesimo ferro. Quindicesimo ferro. Un rovescio. Allora, mi ho gettato, ovviamente. Un rovescio. Un rovescio. Scusate. Un diritto. Due rovesci. Uno e due. Due maglie insieme a diritto. Due diritti. Uno e due. Un gettato e sette rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un gettato e due diritti. Quindi, uno e due. Una diminuzione semplice. Due rovesci. E un diritto. E chiudo con il mio vivagno. Il sedicesimo ferro. Il mio vivagno. Poi, un rovescio. Due diritti. Uno e due. Tre rovesci. Uno, due e tre. Questo vivagno diventa diritto. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E anche questo diventa diritto. Nove. Quindi, nove diritti. Tre rovesci. Uno, due e tre. Due diritti. E un rovescio. E chiudo il ferro con il mio vivagno. Allora, da questo momento in poi, tutti i ferri pari vengono lavorati di nuovo come si presentano le maglie. Andiamo adesso a vedere il diciassettesimo ferro. Diciassettesimo ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un diritto. Due rovesci. Uno e due. Un gettato. Due diritti. Quindi, uno e due. Una diminuzione semplice. Sette rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Due maglie insieme a diritto. Due diritti. Uno e due. Un gettato. Due rovesci. Uno e due. E un diritto. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Il diciottesimo ferro. Come si presentano le maglie. Quindi andremo a fare un rovescio, due diritti, quattro rovesci, sette diritti, quattro rovesci, due diritti e un rovescio. Ci vediamo al diciannovesimo ferro. Diciannovesimo ferro. Il mio vivagno. Il mio vivagno. E poi andremo a fare un'altra. Due rovescia. Il mio vivagno. Il mio vivagno. Il mio vivagno. due rovesci e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno il ventesimo ferro come si presentano le maglie ci vediamo al ventunesimo ventunesimo ferro vado a fare il mio vivagno un diritto due rovesci 1 e 2 due diritti 1 e 2 un gettato e due diritti 1 e 2 una diminuzione semplice tre rovesci 1, 2 e 3 due maglie insieme a diritto due diritti 1 e 2 un gettato e due diritti due rovesci e un diritto il ventiduesimo ferro come si presentano le maglie ci vediamo al ventitresimo ventitresimo ferro vado a fare sempre il mio vivagno un diritto un diritto due rovesci due rovesci tre diritti un gettato due diritti una diminuzione semplice un rovescio due maglie insieme a diritto due diritti due diritti 1 e 2 un gettato e tre diritti 1, 2 e 3 due rovesci e un diritto e un diritto chiudo il ferro col mio vivagno il ventiquattresimo ferro come si presentano le maglie ci vediamo al venticinquesimo venticinquesimo ferro vado a fare il mio vivagno un diritto due rovesci 1 e 2 un gettato e due diritti 1 e 2 una diminuzione semplice tre diritti 1, 2 e 3 un rovescio tre diritti 1, 2 e 3 due maglie insieme a diritto due diritti un gettato e due rovesci 1 e 2 e un diritto chiudo il ferro col mio vivagno adesso andiamo a fare insieme il ventiseiesimo ferro perché le maglie cambiano come devono essere lavorate quindi andiamo a fare il mio vivagno ovviamente un rovescio tre diritti questo gettato diventa diritto quindi tre diritti sei rovesci 1 2 3 quattro cinque e sei un diritto sei rovesci quindi uno due tre quattro cinque e sei questo gettato diventa diritto quindi andremo a fare uno due e tre diritti e un rovescio ovviamente il mio vivagno andiamo adesso a fare insieme il ventisettesimo ferro allora vado a fare un vivagno un diritto tre rovesci quindi uno due e tre un gettato e due diritti uno e due una diminuzione semplice due diritti uno e due un rovescio due diritti due maglie insieme a diritto due diritti un gettato e tre rovesci uno due e tre e un diritto chiudo il ferro con il mio vivagno il ventottesimo ferro andiamo a farlo insieme e andremo a fare il mio vivagno poi un rovescio quattro diritti uno due tre questo gettato diventa diritto quindi quattro diritti proseguiamo con cinque rovesci uno due tre quattro e cinque un diritto cinque rovesci uno due tre quattro e cinque questo gettato diventa diritto quindi uno due tre quattro diritti e un rovescio chiudo ovviamente il ferro con il mio vivagno andiamo adesso a fare il ventinovesimo ferro ventinovesimo ferro un diritto quattro rovesci uno due tre e quattro un gettato due diritti una diminuzione semplice un diritto un rovescio un diritto due maglie insieme a diritto due diritti un gettato quattro rovesci uno due tre e quattro e un diritto chiudo il ferro con il mio vivagno il trentesimo ferro andiamo a farlo insieme vado a fare il mio vivagno a rovescio ovviamente un rovescio cinque diritti quindi uno due tre quattro e questo gettato diventa diritto quindi cinque diritti poi uno due tre quattro rovesci rovesci un diritto quattro rovesci uno due tre e quattro questo gettato diventa diritto quindi andremo a fare uno due tre quattro e cinque diritti chiudo il ferro con un rovescio e il mio vivagno andiamo adesso a fare insieme il trentunesimo ferro trentunesimo ferro vado a fare il mio gettato un diritto cinque rovesci uno due tre quattro e cinque un gettato e due diritti uno e due una diminuzione semplice un rovescio due maglie insieme a diritto due diritti uno e due un gettato e cinque rovesci uno due tre quattro e cinque e un diritto chiudo il ferro con il mio vivagno ultimo ferro trentaduesimo lo andiamo a fare insieme andiamo a fare un rovescio e sei diritti quindi uno due tre quattro cinque questo gettato diventa diritto diventa diritto quindi sei diritti uno due e tre rovesci un diritto tre rovesci uno due e tre questo gettato diventa diritto quindi andremo a fare uno due tre quattro cinque e sei diritti chiudo il ferro con un rovescio e con il mio vivagno allora come potete vedere il motivo è terminato se volete ripeterlo dovete ripetere dall'uno al trentaduesimo ferro e il aspettate che sollevo un po' allora il motivo lo trovate anche per iscritto sotto al video il video è terminato ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao